Un anno fa, più o meno a quest'ora, entravo per la prima volta a Palazzo Pubblico dal Sindaco. C'era grande entusiasmo, anche un po' di emozione evidentemente, l'entusiasmo e l'emozione che si ripetono ogni giorno valcando la soglia del Palazzo Comunale. C'erano tante cose da fare, molte uggenze, molte emergenze fin dai primissimi giorni e molte sono state risolte. Emergenze ce ne sono quotidianamente anche ora, ma in questo frattempo abbiamo cominciato a programmare, a decidere, a cambiare il verso per tanti aspetti a questa città. Se non altro nella modalità di approccio con i propri concittadini, dell'aprirsi all'ascolto quotidiano di chiunque abbia qualcosa da proporre o da contestare. I prossimi giorni poi arriveranno delle notizie più precise, perché fortunatamente sarà un giugno molto intenso, nel quale cominceremo a toccare veramente con mano molti dei risultati per i quali ho lavorato tutti i giorni insieme alla mia giunta per 365 giorni.